Ciao, sono Nicola Pastori e in questo video vi suonerò alcuni assoli tratti dal programma didattico del corso CCR, di cui sono insegnante presso la Rocky Taracane. Il CCR è un corso ideato da Donato Begotti ed è diventato famoso nel corso degli anni per garantire a tutti gli studenti risultati eccellenti, a fronte di ritmi di studio tutto sommato agevoli, che non intaccano le priorità personali. Io stesso ho frequentato questo corso ormai dieci anni fa, parallelamente al liceo, mi sono diplomato ed è stato il punto di partenza della mia carriera musicale. Grazie a tutti! La mission del mio programma didattico ha due parole chiave, groove e musicalità. Studieremo tantissimi brani, ritmi che assoli, scale e arpeggi, generi musicali differenti, e tutto ciò avrà uno scopo, rendervi capaci di suonare in modo espressivo, musicale e cantabile, guardando la musica non solo con gli occhi del chitarrista, ma di un musicista compiuto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione Per avere più informazioni e per visionare il programma didattico completo visitate il sito della Rocchi Taracali www.roccitaracali.com Grazie a tutti